Con il rogo del pupazzo di Peppe Nappa, simbolo ufficiale del Carnevale, si è chiusa in via Liente, una delle edizioni più straordinarie del Carnevale di Sciacca. Quattro giorni di feste, sfilate, musica, allegria, nell'ultimo weekend di maggio e nel primo weekend di giugno. Dopo tre anni di fermo della manifestazione, tutto è stato rinnovato, il periodo, il sito, l'accesso. Dietro il pagamento di un ticket, l'organizzazione ha affidato a un privato, Silvio Alessi, della Meridiana SRL. È però rimasto l'amore delle persone per questa splendida festa, l'impegno e la capacità delle maestranze locali a realizzare calle alegolici, belli, tecnologici, costumi di altissima fattura, scenografie e musica eccezionali. Così alla fine delle quattro giornate di sfilate e di spettacoli, il bilancio per tutti è stato certamente positivo. Circa 20.000 le persone che ogni sera hanno riempito la via Allende, alla Pirrera e tutto si è svolto all'insegna dell'ordine e del sano divertimento. Hanno lavorato tutte le strutture ricettive, le ristorazioni, le attività commerciali, con un buon ritorno economico per l'indotto cittadino. Il nome di Sciacca e del suo carnevale è stato riportato sulle principali testate giornalistiche, regionali e nazionali. Sono stanco ma soddisfatto del lavoro che io e il mio staff abbiamo svolto nell'ottima riuscita dell'evento. Questo è il commento di Silvio Alessi, patron della Meridiane 20, società organizzatrice del Carnevale 2023. Nulla è stato facile, continua Alessi, e tutto si è presentato a noi in forma originale e senza uno storico da poter confrontare. Abbiamo avuto diverse contrarietà, compresa l'allerta meteo, il primo giorno della sfilata, ma alla fine, continua Alessi, tutto è andato per il meglio e sono sicuro che questa edizione straordinaria del 2023 entrerà nella storia del Carnevale Saccense. Per me vedere la via alliente piena di persone che si godevano la festa con i loro bambini è stato molto positivo, di grande soddisfazione e mi ha ripagato dell'impegno profuso in questi mesi. Sentivo il peso dell'importanza di questo Carnevale, conclude Alessi, ho lavorato senza sosta per consentirne lo svolgimento.